Buonasera, seconda lezione sui numeri complessi. Dopo aver affrontato il concetto di numero complesso, credo in maniera abbastanza chiara ed esaustiva se sei qui a guardare la seconda lezione sui numeri complessi, possiamo entrare nel vivo del discorso a vedere le operazioni con i numeri complessi. Cosa sono le operazioni con i numeri complessi? Somma, differenza, prodotto e quotiente. Ma per quanto riguarda la somma e la differenza, io quasi ne parlerei soltanto senza scrivere nulla, perché la somma e la differenza tra due numeri complessi si definiscono immediatamente, anzi sono addirittura delle definizioni intuitive che ti potresti anche aspettare. Abbiamo detto la volta scorsa che uno dei modi in cui si può scrivere un numero complesso è come coppia ordinata, per esempio AB, parentesi tonda, A virgola e poi B, chiusa parentesi, è un numero complesso. Quindi CD è un altro numero complesso, dove AB, C e D sono due numeri reali. Cosa si intende per somma fra questi due numeri complessi, fra i numeri complessi che ho nominato? Ma ovviamente la coppia ordinata il cui primo elemento sarà A più C, primo elemento della prima coppia più primo elemento della seconda coppia e il secondo elemento sarà B più D, cioè il secondo elemento della prima coppia più il secondo elemento della seconda coppia. Quindi per quanto riguarda... e in modo analogo si definisce la differenza. Quindi per quanto riguarda la somma e la differenza non c'è nulla da dire. qualche cosina noi sempre di abbastanza originale, però noi certamente diremo. Invece per vedere il prodotto e il quotiente tra numeri complessi, è bene non scrivere il numero complesso in forma algebrica. Ti ricordo che si dice numero complesso scritto in forma algebrica Z uguale A più B. Ricordiamoci di mettere nella Z però il simboletto di vettore, perché se non sbagliamo, Z uguale A più B. E se dobbiamo fare il prodotto o il quotiente tra due numeri complessi, è meglio scrivere il numero complesso non in forma algebrica, ma in forma esponenziale. Per cui vedi, noi parleremo immediatamente, subito, in maniera abbastanza semplice della somma e della differenza tra due numeri complessi, perché la somma e la differenza tra due numeri complessi si può fare benissimo se essi sono scritti anche in forma algebrica. Invece, al fine di dimostrare la formula che esprime il prodotto o il quotiente dei due numeri complessi, è meglio scriverli in forma esponenziale. Quindi prima di passare il prodotto e il quotiente dovrò spiegarti cosa sia la forma esponenziale, che è un modo alternativo per scrivere i numeri complessi. Ancora prima però delle operazioni, oggi noi dobbiamo trattare un argomento che ti consiglio di ricordare con il nome di I come operatore di rotazione. Questo è una cosa fondamentale in fisica, I come operatore di rotazione, perché se tu capisci questo, cioè perché I possa essere considerato come un operatore di rotazione, allora comprenderai che praticamente il formalismo vettoriale delle grandezze alternate in fisica, il comportamento di tensione corrente nei circuiti elettrici. Ma la prima cosa, la base, il fondamento di tutto ciò è il significato di I come operatore di rotazione di 90 gradi. Ecco, questo lo faremo all'ultimo, perché è una cosa che tu dovrai tenere a mente e dovrai ricordarti soprattutto per la fisica, fisica del quinto anno. Qua siamo nella playlist del quarto anno, perché i numeri complessi è liceo scientifico, si studiano nel quarto anno. Quindi questo sarà l'ultimo argomento, l'ultima cosa di oggi, l'operatore I come operatore di rotazione di 90 gradi. Ecco, cominciamo allora a parlare della somma fra due numeri complessi. Per quanto riguarda la somma in sé, non c'è nulla da dire, anzi le formule te le potrò far vedere qui, prima di cominciare la parte scritta nel vero senso del termine, perché abbiamo detto se abbiamo due numeri complessi, Z1 che è la coppia ordinata AB e Z2 che è la coppia ordinata C e DI, cosa si intende per Z1 più Z2? La somma fra il numero complesso Z1 e il numero complesso Z2, come ho detto prima, è ovviamente la coppia ordinata il cui primo elemento sarà A più C e il cui secondo elemento sarà B più D, cioè possiamo scrivere A più C, primo elemento della somma, B più D, secondo elemento della somma. Chiaro? Se invece vogliamo scrivere il numero complesso in forma algebrica, possiamo pure farlo e il risultato è ovviamente identico, perché se io scrivo Z1 in forma algebrica, cioè A più IB, e Z2 in forma sempre algebrica, quindi C più ID. In effetti avrei dovuto scrivere BI e DI, non IB e ID, ma poi capirai fra breve a quale motivo sia dovuta questa mia confusione. Allora, proviamo a fare la somma. Ecco, per fare la somma, a questo punto, se io vado a sommare Z1 più Z2, cosa ho? A più IB più C più ID. Chiaro? Ovviamente nessuno mi impedisce A più C di vederli insieme e poi di mettere in evidenza I fra IB e ID, e quindi più I che moltiplica B più D. Ecco che quindi il numero complesso Z1 più Z2 è uguale. La somma fra due numeri complessi, che cos'è? E' un altro numero complesso che ha per parte reale la somma delle parti reali, perché questa è la somma, somma delle parti reali, e per parti immaginarie è la somma delle parti immaginarie. Chiaramente ci siamo, ma è come avevamo definito assiomaticamente il numero complesso anche come semplicemente coppia ordinata di numeri. Ecco, tutto qui sulla somma? No, non è affatto tutto qui. C'è una cosa bellissima da farti vedere e che ci fa comprendere, con la somma fra due numeri complessi, facciamo un caso particolare, vedremo che ritroveremo la regola del parallelogrammo di due vettori. Abbiamo detto la volta scorsa che esiste una corrispondenza di univoca fra i vettori del piano, dunque si vede l'ombra qui sul foglio, fra i vettori del piano e i numeri complessi. Ecco, questa corrispondenza di univoca, sì, fra i vettori del piano e i numeri complessi, si spinge ancora oltre. guarda in che modo, dunque, consideriamo, ecco, scriviamo qui, prendiamo un altro foglio, consideriamo sul piano di Gauss due numeri complessi di cui vogliamo fare la somma. Per esempio, il numero z1 che possiamo dire 5 più i2, anzi 2i scriviamo, poi ti chiarirò questa 5 più 2i, lo riscrivo, z1 uguale 5 più 2i e z2 che è 1 più 6i. Allora, rappresentiamo entrambi questi numeri complessi sul piano di Gauss, quindi praticamente vediamo i loro vettori rappresentativi. Sistemiamo le tacche sul sistema di riferimento in modo da evidenziare l'unità di misura prescelta e abbiamo praticamente il vettore rappresentativo di z1 avrà 1, 2, 3, 4, 5, componente lungo l'asse orizzontale e 2i, componente lungo l'asse verticale. Quindi il vettore rappresentativo di z1 sarà questo. Questo è z1. Chiaro? Il vettore rappresentativo di z2 quale sarà? 1, s2, 3, 4, 5, 6, 6i sarà questo. Ecco il vettore rappresentativo di z1. Proviamo a vedere la somma z1 più z2. È uguale a 5 più 1, 6, più 6, 8i. 6 più 8i. Perché questa è la somma, secondo la regola di anzi enunciata, la somma di questi due numeri complessi è 6 più 8i. Proviamo a fare la rappresentazione come vettore della somma. Allora, il 6 sta qua e l'8 sta qua, 8i. Guarda che succede. Il vettore rappresentativo è questo qua. E praticamente la diagonale del parallelogrammo che noi facciamo costruiamo sui due vettori precedenti, su z1 e z2. Quindi, come rappresentazione grafica, noi otteniamo, riotteniamo esattamente la regola del parallelogrammo delle forze. Quindi, come vedi, mai corrispondenza bionivoca fu meglio fondata. Perché non solo ad ogni numero complesso corrisponde un vettore del piano e ogni vettore del piano corrisponde un numero complesso. Ma questa, diciamo, questa corrispondenza bionivoca si spinge anche nella somma. Praticamente, il vettore rappresentativo della somma fra z1 e z2 è proprio la diagonale del parallelogrammo formato su z1 e z2. Esattamente come si sommano le forze con la regola del parallelogrammo. Chiaro? Ecco. E questo, di carino, volevo farti vedere rispetto alla somma di due numeri complessi. Perché in sé la somma e la differenza di due numeri complessi si definisce molto semplicemente, abbastanza banalmente direi, però questo legame fra numeri complessi e vettori è importantissimo. Cioè ci fa vedere che Newton aveva avuto un'intuzione veramente dal genio che era quando ha capito che i vettori si dovessero sommare proprio in quel modo. Allora, adesso vediamo il prodotto e il quotiente fra due numeri complessi. Però, come preannunciato in introduzione, dobbiamo vedere un'altra forma dei numeri complessi. In effetti passa attraverso la forma trigonometrica dei numeri complessi, ma della forma trigonometrica parleremo la prossima lezione. Allora, che cos'è la forma esponenziale, esponenziale dei numeri complessi? Allora, noi abbiamo detto, tu sai già dalla lezione precedente, che dato un numero complesso che si può rappresentare sul piano di Gauss con il vettore rappresentativo spiccato dall'origine, se la parte reale A e la parte immaginaria B, in modo che qua noi possiamo scrivere B, praticamente diciamo FI, l'angolo di fase, anomalia o argomento. Che cosa possiamo dire? Praticamente possiamo dire, quando ti ho spiegato come si calcola il modulo e la fase di un numero complesso, abbiamo visto che esistono quelle delle formule che dicono che A, la parte reale, è uguale a ρ cosenφ, dove ρ è il modulo del numero complesso, cioè la lunghezza del vettore rappresentativo. Facciamo in sostanza questa definizione, no? ρ modulo di Z. Quindi A è uguale a ρ cosenφ, B è uguale a ρ senφ, questo sempre per applicazione del primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli. E allora, se un numero complesso che viene scritto in forma algebrica così A più I B, se A e B hanno quell'espressione appena vista, possiamo scrivere al posto di A, ρ cosenφ e al posto di B più I, al posto di B ρ senφ, quindi ρ senφ. Mi sembra di tutta evidenza che possiamo mettere in evidenza a roccio il modulo del numero complesso e quindi scrivere ρ cosenφ più I senφ. Chiaro? Tacciamo questo particolare, anzi, questo particolare per il momento, perché questa sarebbe già la forma trigonometrica del numero complesso, ma di questo parleremo in una prossima videolezione, perché se io posso scrivere il numero complesso così, ρ cosenφ più I senφ, adesso devo utilizzare una formula che dimostreremo al quinto anno con lo sviluppo in serie di Teller che si chiama formula di Eulero. Questa formula di Eulero dice che cosenφ più I senφ uguale a E elevato a I fi, dove E è la base dei logaritmi naturali. E elevato a I fi, altro non è che cosenφ più I senφ. Chiaro? Cosenφ più I senφ. E allora un numero complesso z, oltre che in forma algebrica, come abbiamo visto prima, come abbiamo visto anche nella prima lezione, possiamo scriverlo come ρ per E elevato a I fi. Chiaro? E questa si chiama forma esponenziale di un numero complesso. Quindi il modulo per E elevato a I volte l'angolo di fase, fi. Ti ricordo che in un contesto puramente matematico, io sono abituato a, sono un fisico, lo chiamo fi fase, ma in un contesto più puramente matematico si può chiamare anche anomalia o argomento, cioè quell'angolo che il vettore forma con l'asse delle scisse. ρ per E elevato a I fi. Bene, allora a questo punto possiamo vedere come si moltiplicano e come si dividono due numeri complessi. Come? Praticamente ammettiamo di avere due numeri complessi. Ecco, vedi, però ammettiamo di averli già scritti in forma esponenziale. Quindi Z1 uguale a ρ1 per E elevato a I fi 1, dicendo il ρ1 il modulo di Z1 e fi 1 la fase di Z1. Z2 invece sarà 1 ρ2 per E elevato a I fi 2, sempre dicendo ρ2 il modulo di Z2 e fi 2 la fase di Z2. Chiaro? E allora, cosa devo fare se faccio il prodotto fra Z1 e Z2? Se fare il prodotto per Z1 e Z1 per Z2 significerà moltiplicare questa quantità qui, star, per quest'altra quantità qui che ti indico con doppio star. Vediamo l'effetto che fa. ρ1 per E elevato a I fi 1 per ρ2 per E elevato a I fi 2. No? Ci siamo? ρ1 e ρ2 ovviamente posso metterli insieme e quindi scriverò ρ1 e ρ2 per E elevato a I fi 1 per E elevato a I fi 2. chiaro? Quindi ρ1 e ρ2 lo riscrivo. Qua applico il prodotto, la regola del prodotto fra potenze della stessa base. Tu dovresti sapere benissimo che il prodotto di due potenze della stessa base è uguale a una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti. Quindi E elevato a I fi 1 per E elevato a I fi 2 è uguale a E una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti. Ci siamo? Quindi ρ1, ρ2. È chiaro che io ad esponente qua posso mettere in evidenza I e quindi scrivo I che moltiplica fi 1 più fi 2. Ed ecco che abbiamo tratto la regola. La z1 per z2 ha che cosa è uguale? r1, ρ2 per E elevato a I fi 1 più fi 2. Quindi è questo. Lo dovresti scrivere secondo me anche come regola. Io non lo scrivo però ti consiglio di scriverlo quando lo senti anche dalla video lezione. Il prodotto fra due numeri complessi è pari a un numero complesso che ha per modulo il prodotto dei moduli e per fase la somma delle fasi. Infatti noi qui abbiamo un numero complesso il cui modulo ρ è proprio il prodotto fra ρ1 e ρ2, il prodotto dei moduli e dei due numeri complessi che noi stiamo moltiplicando. E moltiplicato fi 1 più fi 2 vuol dire che la fase di questo numero complesso è proprio fi 1 più fi 2. Quindi il prodotto fra due numeri complessi è pari a un altro numero complesso che ha per modulo il prodotto dei moduli e per fase la somma delle fasi. Una regola del tutto analoga vale per il quotiente. Noi la facciamo ma comunque potresti farla anche da solo per esercizio. Abbiamo quindi z1 che è uguale a ρ1 per E elevato ai fi 1, z2 che è uguale a ρ2 per elevato ai fi 2. Ora io voglio definire z2 diviso z1. Come fare il quotiente fra due numeri complessi? Allora è uguale praticamente a questo quotiente. ρ2, se faccio z2 diviso z1, ρ2 per elevato ai fi 2, ρ2 per E elevato ai fi 2 e al denominatore metterò ρ1 per E elevato ai fi 1. Quindi ottengo ρ2 diviso ρ1 che posso mettere a parte, diciamo, per E elevato ai fi 2 meno i fi 1, esattamente come abbiamo fatto prima. e esattamente come abbiamo fatto prima scriviamo ρ2 fratto ρ1 per E elevato ai fi 2 meno fi 1. Ed ecco la regola del quotiente fra due numeri complessi. z2 diviso z1 è pari a ρ2 fratto ρ1 per E elevato ai fi 2 meno fi 1. cioè il quotiente fra due numeri complessi è pari a un altro numero complesso che ha per modulo il quotiente fra i moduli e per fase la differenza fra le fasi. Chiaro? Perché qui applichiamo la proprietà del quotiente fra potenza e la stessa base, non del prodotto. Va bene? Concludiamo questa video lezione con la, ecco no, con il significato, l'operatore I come operatore di rotazione che ti ho detto bisogna anche far vedere ma che ti ho detto che è una cosa importantissima soprattutto in fisica. Guarda e si comprende anzi subito, mettiamo il grafico meglio nel mezzo, guarda che succede 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Per esempio il numero reale 2 è qui, il numero reale I2, ecco perché scrivevo I2 prima, il numero reale anzi sì, I2 è qui, no? Quindi se il 2 è qua e il 2 è qua, vedi che noi possiamo pensare che I come un operatore è utilizzando proprio il linguaggio tipico della meccanica quantistica, il calcolo operatoriale, I2 come un operatore che agisca sul numero 2, l'operatore I che agisce sul numero 2, vedi che è come se lo ruotasse di 90 gradi in senso anti-orario perché il 2 senza niente per i fatti suoi è sull'asse reale, no? invece I2 è qui, quindi è come se I agendo sul 2 lo facesse ruotare di 90 gradi. Anzi, nel linguaggio operatoriale I2 non vuol dire effettivamente I al quadrato, ma vuol dire che l'operatore I agisce due volte. Se l'operatore I agisce due volte sul 2, che succede? Va a finire qua, ma infatti tu qua fai meno meno 2, perché se sul 2 fai agire I due volte, facendolo agire una volta lo fa ruotare di 90 gradi e lo pone sull'asse verticale. Facendolo agire un'altra volta lo fa ruotare ancora di 90 gradi, sempre in senso anti-orario, e quindi lo pone di nuovo sull'asse reale, però dalla parte negativa. Quindi il quadro 2 è uguale a meno 2. Ma sappiamo benissimo che il quadro per 2 è uguale a meno 2, no? Perché I al quadrato è pari a meno 1, in quanto ti ricordo che l'unità immaginaria è definita come la radice quadrata di meno 1, quindi I al quadrato farà meno 1, e quindi meno 1 per 2 fa meno 2. E se I agisce tre volte, I cubo agisce, I cubo 2 vuol dire che I agisce tre volte sul 2. Se agisce tre volte sul 2, il 2 andrà a finire qui, praticamente. Quindi una rotazione, una rotazione di 200, 70 gradi. Ma I cubo 2 a che cosa sarà uguale? A meno 2I, praticamente. Perché il meno 2I, infatti, è qua. Perché I cubo è uguale a meno 1, meno 2I, praticamente meno 1 per 2I fa meno 2I. I cubo 2 vuol dire che I agisce tre volte sul 2, quindi agendo una volta lo porta qui, agendo due volte lo porta qui, agendo tre volte lo porta qui. E agendo quattro volte dove lo riporterà mai? I alla quarta 2I, che cos'è? Ma I alla quarta 2 è semplicemente 2. Fai il calcolo anche da un punto di vista veramente algebrico, vedrai che è così. Chiaro? Ecco, questa formula, praticamente, quanto ti ho fatto vedere queste rotazioni, ti dovrebbero far capire che l'operatore I è un operatore di rotazione di 90 gradi, in senso anti-orario. Se comprendi questo, comprendi almeno il 70% della rappresentazione vettoriale delle grandezze alternate, cioè del comportamento di tensione corrente nei circuiti elettrici. Ecco perché, vedi, io avevo l'incertezza se mettere la I prima o dopo, perché in un testo di matematica pura, tu troverai un numero complesso sempre scritto come per esempio 5 più 2I. La I viene messa dopo, perché I è un coefficiente, di solito le lettere vengono messe dopo i numeri. Però, nel linguaggio tipico degli operatori, l'operatore viene messo prima del numero a cui si riferisce. Ecco perché, in un contesto più ampio, più generale, più fisico, per così dire, i numeri complessi, il numero complesso Z nella forma algebrica A più B, sarebbe meglio scriverlo A più IB, perché A più IB vuol dire che l'operatore I agisce sul numero B, ruotandolo di 90 gradi in senso anti-orario. Arrivederci, è tutto per questa lezione.